Ciao ragazze, bentornati in un nuovo video. In questo video vi farò vedere tutte le applicazioni che ho scaricato sul telefono. Spero che sia un video utile, perlomeno che vi tenga anche un po' compagnia. Fatemi sapere se voi avete qualche applicazione carina da scaricare, soprattutto applicazioni per modificare le foto. Io nel video ve ne farò vedere due. Oltre che Instagram. Però sono sempre a ricerca di qualche applicazione carina e interessante. E niente, noi ci vediamo col prossimo video. Un bacio, ciao! Ciao ragazze, allora, questo qua è il telefono. Si può sbloccare sia premendo il tastino laterale, che è facendo doppio clic, e poi si solleva la schermata. Allora, qua ci sono tutte le applicazioni che io utilizzo tutti i giorni. Sono quelle che io trovo più utili, così almeno ce le ho subito a portata di mano. Ogni applicazione si può rimpicciolire e ingrandire premendo la freccetta. Io ho deciso di metterle così a quadratini, perché così almeno ci entrano tutte. Allora, le applicazioni sono questa qua, vabbè, del telefono, dei messaggi, questa qua, bus Roma, che serve a monitorare i mezzi pubblici a Roma, sempre se passano. Si può calcolare un itinerario, cercare un autobus, vedere gli orari delle ZTL, il bollettino del traffico. In teoria è fatta bene, in pratica no, perché semplicemente ogni tanto non riesce a trovare l'autobus. Poi lo store, dal quale si scaricano le applicazioni, due applicazioni per le email, una è Automail e l'altra è Google Mail. Funzionano abbastanza bene, arrivano tutte le email in tempo reale, non mi ci sono mai trovata male. Poi Messenger, praticamente la chat di Facebook, fatta abbastanza bene, anche se ogni tanto non fa inviare i messaggi. Però è veramente rara come cosa. Whatsapp, che funziona benissimo, non mi ci sono mai trovata male, è veramente fatto bene. Si può mettere lo sfondo anche alle conversazioni. Ormai, diciamo, è quasi ai livelli di quello per iPhone e per Android. Sixthag, che è il client di Instagram, perché Instagram per Windows Phone non permette di fare i video e non è tanto fluido. Non mi piace come è fatto. Questo qua invece è fluido, permette di fare i video, non si è mai impallato. È veramente fatto molto molto bene. Se mi interessa, vi posso fare un video aggiornamento del tag, perché l'avevo già fatto, ma è passato un bel po' di tempo. Poi c'è l'applicazione tramite la quale io gestisco la pagina Facebook. Praticamente su queste applicazioni mi arrivano soltanto le notifiche relative alla pagina Facebook, con i vostri commenti, i vostri mi piace. Così io vi posso rispondere subito, senza dover aspettare di arrivare a casa. Poi, internet, musica, praticamente è la playlist che ho creato io con tutte le canzoni che preferisco. Facebook è la fotocamera e poi c'è la mia applicazione preferita, che è Beautiful Photo. Con questa applicazione modifico la maggior parte delle foto che poi voi vedete su Instagram e Facebook. Le foto si possono fare sia istantaneamente che caricarle proprio da quelle che abbiamo fatto precedentemente. Le ritaglia perfette per poi caricarle su Instagram, per cui potete modificarle senza avere paura che poi la foto venga ritagliata. Quindi magari io seleziono una foto qualsiasi, posso applicare un filtro, la posso spostare. Se magari poi vi interessa un video relativo a queste applicazioni, io lo posso anche registrare. C'è anche il filtro con i cuoricini, che è tenerissimo. Poi basta premere Done e poi Save e si salva automaticamente la foto. L'unica cosa è che c'è la pubblicità, per cui ogni tanto si rischia di premere sulla pubblicità, ma basta tornare indietro. Sulla tendina, perché c'è una tendina, si trovano le notifiche, quindi le email, i messaggi, tutto. E poi il wifi, il bluetooth, modalità aereo e blocco della rotazione. E poi tutte le impostazioni, perché così si possono cambiare più velocemente. Anche se non lo trovo abbastanza utile. E poi scorrendo appunto verso sinistra e verso destra, ci sono tutte le applicazioni che abbiamo scaricato, divise in ordine alfabetico. Partendo da qua c'è il 119 Self, che è veramente inutile, perché si blocca dopo il primo utilizzo. È un'applicazione che serve per tutti i clienti team, per sapere in tempo reale il credito residuo, a che punto stanno le varie promozioni che abbiamo attive sulla sim, ma veramente non funziona. Poi c'è Nine Gag, che è un'applicazione sulla quale si possono trovare diverse immagini simpatiche. Si possono trovare diverse immagini simpatiche, veramente molto molto carine. Si possono condividere sui social o anche salvarle. Mi piacciono tantissimo, molte le salvo perché sono veramente geniali. Poi Adobe Reader, che appunto serve per leggere i PDF, semplicemente come quello del computer. Poi Creazione Suoneria, praticamente si seleziona una suoneria dalle nostre suonerie, dalle nostre canzoni. Si taglia e poi si imposta come suoneria per le chiamate, o per i messaggi, per le email. Comunque c'è tutto scritto ed è veramente molto facile da usare, tant'è che ce l'ho fatta pure io. Poi, poi, poi interessante, vabbè, Free Ringtones è veramente orribile e l'eliminiamo perché è veramente bruttina. Poi ho scaricato diversi giochi, tutti con degli obiettivi da sbloccare perché mi fanno impazzire questi giochi. Poi c'è HerDrive, HerMaps, HerDrive è il navigatore e devo dire che è abbastanza buono. Ogni tanto fa fare un po' strade del cavolo, però non è affatto male. Non è affatto male, suona malissimo. Poi, IMDB, che è l'applicazione di un sito americano, se non sbaglio, credo sia americano, dove ci sono tutti i film con un voto. Dice quanto durano, il cast, la trama, fa vedere il trailer. Devo dire che è fatto molto bene. Dice anche il genere del film, quando è uscito, per esempio io volevo andare a vedere Interstellar, ma dura tre ore. Non so se ce la posso fare, magari mi addormento prima. Fatemi sapere voi se l'avete visto, cosa ne pensate. Poi, veramente fatto bene come applicazione, molte volte mi rivolgo a questa per decidere se poi andare a meno al cinema. L'applicazione della Feltrinelli, si possono fare degli acquisti, si può vedere quanto costa un libro, se è disponibile nei negozi che abbiamo vicino. Perché appunto c'è quest'icona, fa vedere i negozi che sono più vicini a noi. E magari vedere se un libro è disponibile in quella libreria o bisogna andare in un'altra, stando comodamente a casa. Poi, c'è l'applicazione del Meteo, che funziona male, secondo me, come qualsiasi applicazione Meteo. Questa qua, gratuita, è abbastanza buona. Si può condividere su Facebook e poi si può anche salvare l'immagine e poi condividerla sui vari social. Altre applicazioni interessanti, ci sono diverse applicazioni per imparare delle parole di lingue, perché non si imparano le lingue. Per esempio, io ho scaricato quella di russo, ci sono i vari livelli. Ci sono i ripassi che ho fatto ultimamente, le statistiche. È fatta molto molto bene. Anche se comunque non si imparano le lingue così. Così si possono imparare soltanto delle parole. Poi, sensori dati e sensori memoria, che servono a tener conto del traffico dati di internet. è quello del... è lo stato della memoria del telefono, anche se non è che li vado a guardare molto spesso. Poi Shazam, sapete tutte a cosa serve Shazam. È una cosa fantastica. Poi, Skype, Spotify, che serve a sentire la musica gratuitamente, anche se c'è una versione a pagamento senza la pubblicità. L'interessante è poi, vabbè, tempo run. Non funziona tanto bene, perché ogni tanto si impalla. Trip Advisor, che serve a vedere magari un hotel, un ristorante. Si seleziona poi la fascia di prezzo. Devo dire che mi sono trovata molto bene quando sono andata a Bologna. È abbastanza attendibile, anche perché ci sono poi i commenti delle persone che sono andate magari in quel posto. Il traduttore di Bing, che non è molto attendibile, anche se lo è molto di più rispetto a quello di Google. Tumblr e Twitter, che non utilizzo, ma che ho scaricato. Non so neanche io perché. L'applicazione del cinema, che io utilizzo veramente spesso. Per esempio sono nel Lazio, questi qua sono gli ucci presenti nel Lazio, tutti a Roma. Io magari voglio andare a vedere Interstellar. Lo cerco, mi dice quando lo voglio andare a vedere. Lo voglio andare a vedere oggi. A che ora? E mi dice anche l'ora e la sala. Si può, mi pare, anche prenotare o acquistare direttamente il biglietto. E fa vedere anche la scheda del film, tutte informazioni che dà anche IMDB. Dice la durata, quando è uscito, il cast, la trama. È fatto molto bene. Devo dire che se avete un ucci cinema vicino, questa qua la dovete assolutamente scaricare. Poi valori nutrizionali, che utilizzavo quando, no, la utilizzo ogni tanto anche adesso perché sono a dieta, quindi voglio sapere le calorie di una qualsiasi cosa. Per esempio, selezionato riso bianco, gli dico che magari ne ho mangiati, non lo so, 90 grammi. E lui dice che per 90 grammi le calorie, i grassi, i carboidrati, è veramente fatto bene. E ne tiene conto delle calorie che mangiamo giornalmente. Però ancora non sono riuscita a trovare un'applicazione che tenga conto delle calorie che si bruciano. Poi Wikipedia e YouTube. Questa qua è un'applicazione che ho trovato recentemente. Sembra fatta bene. Perché in realtà, in teoria, è fatta bene. Il punto è che se io voglio vedere un video, lui non riesce a farmelo vedere tutto. Nel senso, fa sentire soltanto l'audio e non il video. Se magari voglio vedere un video tipo Top 5 di Martina, lo posso vedere. Se magari voglio vedere un video tutorial, no, perché non me lo fa vedere. Parte soltanto l'audio. Però tramite questa applicazione io posso tranquillamente rispondere ai commenti senza per forza dover andare su internet. Quindi così, diciamo, velocizzo il tutto. E poi come ultima applicazione c'è un gioco fantastico. È un antistress. Zombie Tsunami. Mi piace che ci sia su tutti i vari dispositivi. Android, iPhone e Windows Phone. È veramente simpaticissimo. Ci sono questi zombie che devono invadere la città. È carinissimo. Ci sono anche di questo i vari obiettivi. Bisogna mangiare i cervelli. È l'unico gioco che vi faccio vedere, ma perché mi piace tantissimo. E niente ragazze, spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi sapere appunto se anche voi avete qualche applicazione simpatica, carina, ma anche se avete un Android o un iPhone. Magari esiste anche per noi poveri cristiani che abbiamo Windows Phone. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!